ciao salve a tutti sto provando a registrare in più di un video dato che si blocca attenta amore sto visitando una colonia bellissima tutte scotte e covate in questo modo queste sono scorte vedete partono su ventaglio più alto e dell'annate precedenti vedete le tengono gestiscono bene in quanto a cristallizzazione riescono a preservarla bene in quanto non la fanno cristallizzare con la temperatura poi parte sul proprio flore e acacia e tutte quelle fioriture da frutteto pruno isse mische sono scott